Sì, è una cosa che ci ha indignato profondamente, che io ho condannato con grande fermezza ieri e sono molto felice di aver ricevuto la notizia che finalmente questo gruppo è stato oscurato. L'offesa è stata cancellata. Il sito di Facebook che istigava il tiro al bersaglio contro i bambini da un oscurato in tempi rapidissimi. Ma non si è fermata l'indignazione e la rivolta contro un gruppo nato dal delirio mentale di pochi. Gli iscritti iniziali erano appena 250, con un profilo anonimo si faceva chiamare il vendicatore mascherato, un linguaggio aberrante oltre che sgrammaticato. La reazione su Facebook è stata immediata. Due gruppi nati per segnalare l'indecente tiro al bersaglio in poche ore hanno raccolto 50.000 adesioni, in crescita di minuto in minuto. Forte la solidarietà alle famiglie dei bambini down e dai piccoli. Vicenda che avrà pesanti strascichi penali. Quel gruppo ha commesso il reato di istigazioni a delinquere. I suoi ideatori saranno ricercati e perseguiti dalla magistratura.